Bello, bello, è visto come stai di torno? Ma vuole? E ti chiedo poi che ho la testa lì e vediamo se mi fai affare i miei capelli. Una moneta, non è male? Voglio controllare. È normale, è normale, controlliamo perché è bene. Non scomparti. Metto una moneta. Dentro. Metto l'altro. Mi piace questo. Quel tocco di bacchetta mi piace. Anche a me. Non sai quanto è un tocco di bacchetta. Porti elastici con Gizze. Metto una moneta al centro. Sì, sì. grazie una corda è una vera corda è una una scatolina vuota metto la corda e ora è tagliata oh ma guarda applauso ah no ancora non è la macchetta e poi incredibile mi chiede le carte solo dove c'è qua c'è qua c'è 65 no no sbagliato io c'era anche qui scusa aspetta aspetta c'era il trucco no no ho sbagliato io c'era anche qua scusa scusa c'era c'era 96 97 bravissimo ho sbagliato io bravo va bene un'altra 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 è proprio abbiamo trovato una volta vai io devo fare le foto bravo 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 grazie un po' di tre giorni a quella scala l'ha preparata la segata l'ha messo lo scotch un mazzo di cacchi un male e questa una lucetta mischiocchi un po' di tre 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 ecco guarda la carta che ci può guardate da tutti si abbiamo visto l'abbiamo visto l'abbiamo visto l'abbiamo visto l'abbiamo visto è a peccato questa è perché poca la luce si l'abbiamo visto non vedo dal cuore sono completamente senza bravo bravo un po' di tre 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 christian io 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 che Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.